io ti ringrazio significa che sei maga anche tu perché da magari di capire anche gli scherchi, degli scherchi, i trucchi, i trucchi e infatti da dietro qualcosa si può vedere ma non sta a che è capitato un mago troppo bravo è troppo bravo infatti mi sono preoccupata un po' quando mi è cascata la colonna grazie un applauso per queste bimbe perché hanno solo un anno di danza allora adesso piano piano ritornate dietro le quinte e vi preparate va bene? grazie grazie grazie